Il sistema è un sistema. ho fatto un match il 18 luglio con Intercontinentale molto duro quindi volevo testare questa sera facendo i 6 round e dico che sono andato bene molto sciolto quindi possiamo andare avanti anche l'età avanza gennaio con 36 però mi sento ancora bene come un 18 anno il tuo prossimo obiettivo? fare un titolo internazionale a livello internazionale dove posso dare il meglio di me a livello internazionale a livello internazionale